Nel ringraziarvi di questo invito che ho veramente gradito, consentitemi di partire dalla bassa cucina. Siccome normalmente una delle accuse a cui ho dovuto replicare nel corso della mia vita pubblica è di spiccare il volo verso discorsi sublimi, vorrei tenermi un attimo, vorrei partire proprio dalla bassa cucina. Spesa comunitaria. È sfuggito ai più, normalmente i grandi quotidiani dedicano molto spazio ai target della spesa comunitaria, è sfuggito completamente il dato ultimo, quello del 31 di ottobre, che era un passaggio molto importante, molto delicato. È sfuggito, credo con qualche malizia, perché nei dati dell'ultimo controllo sulla spesa comunitaria si può vedere sciogliersi come neve al sole uno dei più grandi pregiudizi che sono stati coltivati attraverso le veline che il Ministero dell'Economia con tutti i governi ha sistematicamente passato ai mass media relativamente a nord e sud. Il 31 ottobre 2013 le regioni che non raggiungono il target sono tutte regioni che non fanno parte dell'obiettivo convergenza, cioè non c'è nessuna regione del sud tra quelle, diciamo così, con un comportamento discutibile. Le regioni, ho qui Fabrizio Barca che può certificare parola per parola quello che sto per dire, le regioni che non raggiungono gli obiettivi di spesa sono la Sardegna, l'Umbria, il Piemonte e il Lazio. E tra gli altri protagonisti che non raggiungono i target di spesa, nonostante il fatto che il Ministro Trigilia abbia abbassato i target di spesa per evitare qualche figuraccia di troppo, ci sono i ministeri relativamente ai piani nazionali sull'energia e sugli attrattori turistici. Quindi, poi, scusate, io ringrazio Fabrizio per aver detto qualcosa sul fatto che non siamo tutti uguali, la Puglia fa il 50,3% della spesa per gli investimenti, la Campania fa il 34%, la Calabria fa il 31%, diciamo che non siamo tutti la stessa cosa. Ma vorrei dire dei miei problemi, però, perché è una condizione piuttosto surreale quella di andare a Largo Chigi, dove c'è il Ministero della Coesione Territoriale, e ricevere l'ammonimento, devi spendere di più, fare un breve tragitto, andare in via 20 Settembre e ricevere l'ammonimento contrario, non devi spendere, perché ci sono i limiti, i vincoli del patto di stabilità che insistono sul cofinanziamento della spesa comunitaria. E questi vincoli sul patto di stabilità non sono sempre uguali. Di anno in anno diminuisce la possibilità di spesa delle regioni. Il 2014 sarà un anno, diciamo, in cui il raggiungimento degli obiettivi sarà francamente acrobatico. Perché? Perché finisce nel 2013 il settennio 2007-2013 e comincia nel 2013 il settennio 2014-2020. Per due anni si sovrappongono la fine della vecchia programmazione e l'inizio della nuova programmazione. I problemi del patto di stabilità sono una specie di incubo per tutti noi. Quindi aggiungo, qualche volta sarebbe carino da parte dei nostri censori fermarsi a fare un'analisi un po' ravvicinata su quali sono le criticità. Perché è difficile spendere? Perché o le centrali di spesa sono, diciamo, luoghi di sadomasochismo d'elite, oppure ci sarà qualche ragione che inibisce, che rende difficile, che mette in affanno le centrali di spesa. Per esempio, c'è sintonia tra i regolamenti comunitari e le leggi nazionali? Io esco pazzo, perché quando leggo sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico che una grande opera, mediamente, ha come tempi di realizzazione dai 12 ai 20 anni, e quando Bruxelles mi dice che per farmi venire un'idea, fare un progetto, trasformarlo in un progetto esecutivo, bandire una gara, assegnare i lavori, firmare il contratto, tutto questo, e inaugurare l'opera, dovrei farlo in tre anni, credo che, diciamo, in questa discrasia ci sia il velleitarismo di un'Europa che è sempre una specie di scenografia retorica, e l'affanno della politica che non si occupa molto di guardare con il microscopio i problemi che un'amministrazione deve affrontare. Mi fermo qui, per la carità di patria, non dico più niente su questo argomento, su cui qualche volta vorremmo avere interlocuzione. Vi dico soltanto un piccolo aneddoto. Io mi sono rivolto con grandi amicizie al Presidente del Consiglio quando è venuto a Bari all'inaugurazione della Fiera del Levante, e gli ho detto, signor Presidente del Consiglio, mi avete ascoltato, mi ha ascoltato lui che faceva il Ministro, e mi avete dato una norma, quella che mi consente lo sforamento controllato del patto di stabilità, perché la mia regione ha in cassaforte quasi 3 miliardi di liquidità. Dammi una norma che mi consente di spendere in più, visto che ci sono regioni che invece non spendono quello che dovrebbero spendere. Si chiama sforamento dei vincoli del patto di stabilità. Quando è stata pensata però, diciamo, i ragionieri hanno immaginato comunque di mettere delle sanzioni, delle mini-sanzioni, due in modo particolare. Non possiamo contrarre nuovi mutui, se andiamo in mini-sanzioni, in sforamento, e non possiamo bandire concorsi. Ho fatto il giro delle sette chiese. Ho detto, guardate che non fare concorsi è una tragedia, perché per fare una buona spesa comunitaria abbiamo bisogno di giovani che sappiano che cos'è l'Europa, il diritto comunitario, internet, le lingue. Abbiamo bisogno, diciamo, di rinnovare l'intelligenza, il capitale sociale della pubblica amministrazione. Mi hanno ascoltato tutti, ho avuto una pacca sulla spalla da tutti. Grande conforto e consolazione. L'effetto è che hanno aggiunto alle due sanzioni una terza sanzione. Se si va, no, sentite quale, se si va in sforamento controllato, il governatore e gli assessori perdono il 30% dello stipendio. Che, come sapete, è un argomento definitivo. Allora, io non dico nient'altro. Naturalmente, anche qui, guardo Fabrizio Barca, noi i risultati che abbiamo raggiunto, li abbiamo raggiunti, perché abbiamo, diciamo, circa 200 ragazzi precari che sono, diciamo, la parte più appassionata e più competente, quella che ha realizzato la spesa e la rendicontazione della spesa. Il decreto sulla pubblica amministrazione, diciamo così, è una pietra tombale per il futuro lavorativo di questi ragazzi e per noi è un problema serio, perché veramente io speriamo che me la cavo, perché senza quella competenza è difficile raggiungere le performance che abbiamo raggiunto. Volevo dire pochissime cose in una discussione in cui mi sono permesso di entrare dal lato, diciamo, della calcolatore. Invece volevo dire qualcosa, diciamo, sui temi generali. Prima questione. Se dovessi dare un titolo all'impegno politico-culturale che penso sia necessario in Italia oggi, direi per una nuova qualità del riformismo, perché penso che riformismo oggi sia una parola ambigua se non incontra la questione della povertà e non in termini caritatevoli o in termini, diciamo, di stato residuale che però ha tutte le competenze delle lemosiniere e se non incontriamo il tema del lavoro. Su questo soltanto. Mi permetto, per sincerità e per affetto, ci sono sindacalisti con cui abbiamo imparato a conoscerci nei tavoli al Ministero. Raffaele Bonanni, per amicizia, posso permettermi di dire una cosa su cui io dissento. Io non ho il mito dello sciopero. Non ho il mito del conflitto per il conflitto. Ho l'idea che lo sciopero sia stata la più grande forma di alfabetizzazione civile e democratica di quelle che in tempo chiamavamo le masse popolari. Ma il tema dello sciopero oggi, per me, ha a che fare con una questione di cui parlava Deborah poco fa. Mille, centomila vertenze di lavoro non fanno in Italia una grande vertenza sul lavoro. Cioè sul lavoro che è stato negli ultimi trent'anni spogliato di potere, di reddito, di rappresentanza, di forza morale, di persino dei contorni della comunità. Oggi non c'è più il mondo del lavoro. Ci sono, diciamo, universi pieni di solitudini. Ci sono i lavoratori, le lavoratrici, ognuno per conto suo. Quando la maggior parte dei contratti sono a tempo determinato, il sentimento di precarietà che si insinua progressivamente nel vissuto del singolo lavoratore, diventa persino un fatto antropologico con il quale problema noi dobbiamo non fare i conti. La povertà è anche questo. Povertà di relazioni sociali, povertà del senso tuo, diciamo, di essere inserito in un contesto di società. Io sono stato da bambino educato, dai braccianti poveri del paese mio. Quello che mi colpiva, quando andavo, ho 16 anni, 17 anni, a 17 anni facevo il funzionario dell'alleanza contadini. Andavo in quel posto a fare domande di integrazione dell'olio e a leggere i libri ai contadini che volevano sapere le cose. Quello che mi colpiva molto, che è del tutto sparito, era l'idea di avere una ricchezza al di là della condizione del reddito, un'appartenenza solidale a una comunità più grande, un luogo nel quale tu non sei un atomo sperduto nell'universo mondo, ma hai un significato che è tutto dentro quelle relazioni. Quelle relazioni sono state scientificamente ferite dalla rivoluzione liberista, ma solo il Papa è autorizzato a criticare il liberismo, mentre nella politica siamo tutti balbettanti sul tema di un paradigma di società e di economia che ha devastato l'ambiente, ha devastato la dignità dei lavoratori. Cioè non è su questo che dobbiamo rimettere in piedi una tendenza culturale nuova. Nuova significa anche capace di fare appello alle storie culturali più antiche. Per me, che sono stato comunista tutta la mia vita, da bambino in poi, oggi il tema del personalismo nella cultura cattolica, le lezioni non solo, diciamo, dei cristiano sociali, ma le lezioni nel dopoguerra di Aldo Moro sulla centralità della persona, non sono qualcosa da riscoprire quando guardi al mercato, all'ambiente, alla natura. Cioè non abbiamo bisogno di una nuova profezia laica che in qualche maniera renda la politica non semplicemente l'amministrazione dell'esistente, ma anche una visione, un'idea. E l'ultima cosa che voglio dire, ho finito, vi chiedo scusa, io sono per una radicale riforma del welfare. Lo dico così, nessuno mi dice brutto conservatore. Che cosa intendo per radicale riforma del welfare? In Italia, riformismo, ho detto, è una parola un po' brutta, perché un tempo, per me, diciamo, il riformismo era la lezione che avevo appreso da Moro o da Di Vittorio, da Tommaso Fiore soprattutto, dal primo novecento, dalla costruzione dei grandi affreschi sociali, cioè era una grande storia che aveva l'elemento della diagnosi delle patologie sociali e l'elemento della terapia che era tutt'altro che moderata. Oggi chiamasi riformismo, diciamo, l'adesione progressiva alla cultura, diciamo, del mercato. Si chiama riformismo, non so per quale ragione, lo smantellamento della rete dei diritti sociali per come si sono acquisiti. Ma welfare, perché dobbiamo cambiare il welfare? Perché è stato pensato in un mondo in cui la questione di genere non esisteva. Il welfare è stato pensato al maschile. E oggi, per esempio, nel momento in cui, anche negli ambienti di lavoro, persino nei contratti, noi abbiamo, dicevo poco fa, nell'aeroporto di Bari, chiuso un contratto decentrato con tutte le aziende, fondato sulla conciliazione tempi di vita, tempi di lavoro. Abbiamo fatto aeroporto sui generis, cioè l'elemento della contraddizione di genere. Non è un fatto retorico per i convegni. E' anche un fatto che deve entrare nel mutamento della politica e delle relazioni industriali. Allora, va ripensato al femminile, il welfare. Noi avevamo un welfare che era neoassistenziale nei confronti delle figure vulnerabili o vulnerate. Ma il mondo della disabilità ci ha educato al self-help. Non voglio essere permanentemente assistito da te, ma voglio gli strumenti per guadagnare la mia indipendenza. Questa è una rivoluzione nella cultura del welfare. L'invecchiamento attivo. Chi poteva immaginare una società in cui il tema dell'invecchiamento è il tema del ripensamento globale, persino del rapporto tra le generazioni, è il tema dei migranti. Cioè, ci sono questioni enormi che chiedono una riscrittura del welfare. Non come dimagrimento delle risorse da assegnare, ma come capovolgimento, se posso dire così, dell'impostazione nel rapporto tra domanda e offerta di servizi, dobbiamo smetterla di partire dall'offerta, perché la centralità dell'offerta diventa in automatico anche la centralità dei sistemi corruttivi. Se tu non parti dalla domanda, sei in sanità, continui a partire sempre, da come razionalizzi la rete ospedaliera, da quali grandi macchine compri, e non parti invece da una moderna cultura epidemiologica e da una radiografia dei bisogni di salute che ti consentono di allocare le risorse in maniera più razionale, non ce la fai. Ecco, io penso che bisogna avere il coraggio di essere, mamma mia, diversamente riformisti. Ecco, ma l'ho detto solo per fare una battuta.